Come vedete voi, qui alle mie spalle c'è questo tempio prestigioso con la sua storia e stiamo allestendo una maratona, che infatti si chiama maratona d'estate, tutta una settimana improntata sulla danza. Vengo da Roma, però mi sento ormai adottato qui in Campania perché mi sono fermato 15 anni qua a Pestum e non mi sono più mosso, quindi faccio un po' andata e ritorno tra Roma e Pestum. 20 anni con Raffaella Carrà, quindi dall'82 al 2002 ho fatto tutti i programmi con Raffaella, da pronto Raffaella all'ultimo che è stato Carramba, che fortuna, che sorpresa e anche tutti i cinque anni in Spagna con lei. L'evento sarà dal 24 al 30 luglio, vi spiego bene, dal 24 al 29 stesso ci saranno degli stage con maestri di fama internazionale, non li cito tutti perché se no mi dimenticherò qualcuno, però sono maestri di fama internazionale e faccio tre spettacoli, il 28, il 29 e il 30, c'è il 28, è una rassegna dedicata ad Alessio Giglio, un mio allievo scomparso per una brutta malattia, il 29 uno spettacolo di gala molto importante con Giuseppe Picone, uno dei più bravi ballerini campani e italiani che si esibirà con la Bayader e Bolero, che è una produzione fatta da lui e il 30 luglio un concorso di danza dove presenzierà Raffaele Paganini e tanti altri ospiti. Appuntamento al Pestum dal 24 al 30 luglio, spettacoli 28, 29 e 30 di luglio.